Musica Signore e signore amici sportivi buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Prato Sport Siete pronti? E allora cominciamo subito alla scoperta delle eccellenze sportive della nostra città Prima di cominciare però saluto la mia compagna di viaggio, Diletta Bitorso, di ciao, benvenuta Ciao Massi, buonasera, benvenuti a voi da casa E allora cominciamo subito parlando di ginnastica, davvero un servizio molto interessante Tu Diletta sai la differenza tra sport e ginnastica? La ginnastica penso che serva proprio per accompagnare lo sport Eh però ci sono tanti punti interrogativi, allora facciamoci spiegare da questo servizio le differenze tra lo sport e la ginnastica Vediamo Essere o non essere, questo è il problema Citazioni scespiriane a parte, la domanda non appare retorica quando ci si interroga Ma la ginnastica è uno sport? La risposta ha mille sfaccettature e viene affidata al dottor Marco Pecchioli, ortopedico intervenuto al convegno organizzato presso lo studio Anna di Pistoia Devo partire sottolineando la differenza tra sport e ginnastica C'è una grande differenza Comunque le tecniche ID sono tecniche e non metodo Per significare che sono una raccolta di esercizi adattati per ogni singolo problema Il problema può essere la ginnastica di mantenimento, la ginnastica per anziani, la ginnastica per adulti, la pre-sportiva Oppure la ginnastica correttiva per problematiche di tipo paramorfico per i bambini come piedi piatto, dorso curvo, scoliosi, atteggiamento scoliotico eccetera E sono tecniche che hanno dimostrato la loro efficacia La differenza a questo punto mi ha incuriosito tra ginnastica e sport La differenza è fondamentale Lo sport si deve intendere, si intende ed è una gara fra atleti finalizzata al conseguimento di un premio mediante la vittoria Questo è lo sport Cioè lo sport non è l'anziano che va a passeggio nel bosco E che bisogna stare attenti a non fare confusione La ginnastica invece è la scienza che studia l'esercizio fisico Non il movimento, l'esercizio fisico E che ha per fine il conseguimento e il mantenimento della buona salute E questo è un abisso tra ginnastica e sport Questa distinzione è fondamentale per non attribuire allo sport Quelli che sono invece i benefici della ginnastica Di ginnastica non è mai morto nessuno Insomma la ginnastica correttamente eseguita può essere veramente un coaduvante per migliorare il proprio benessere E mantenersi in forma fisica e mentale anche in età avanzata Sì, in realtà sono due attività motorie Che hanno fondamentalmente obiettivi differenti Lo sport ha come obiettivo vero, reale la vittoria E tutto il resto può essere identificato con dei valori aggiunti Però passa in secondo piano Per esempio due squadre di calcio alla domenica si affrontano E il loro obiettivo, il loro scopo è vincere Nella ginnastica invece si ricerca il conseguimento e il mantenimento della buona salute Per cui non c'è assolutamente competizione Se non una forma ludica Non ci sono i premi E l'aspetto proprio prettamente agonistico e competitivo viene meno Per cui se da un lato nello sport si può andare incontro anche a diversi infortuni Come i professionisti a fine carriera che sono testimonianza La ginnastica è per tutti e per tutta la vita Come diceva il professor Mario Gallo Per cui è quell'aspetto dell'attività motoria che è indispensabile per la vita di ognuno di noi Un paio di volte alla settimana, un paio d'ore di ginnastica Possono bastare per un corretto svolgimento di quella che è l'attività In realtà l'ideale sarebbe due o tre volte alla settimana Anche un'ora e cinquanta minuti In una ginnastica definita ginnastica di mantenimento Dove vengono passate in rassegna tutte le attività naturali dell'uomo Dall'equilibrio alla sospensione Alle arrampicate Per cui attività che l'uomo primitivo era costretto a fare in natura Per appunto sopravvivere Oggi fortunatamente si vive in una società dove la comodità la fa da sovrana Però siamo sempre fatti come eravamo allora Per cui il nostro corpo reclama una forma di movimento del tipo di cui ho parlato ora Attività motoria naturale E quindi ci si rifà le dieci famiglie di movimento delle Bert Camminare, correre, saltare, fare le volte, notare, lottare per difendersi Un aspetto veramente completo Insieme alla ginnastica diventa fondamentale per lo star bene La corretta nutrizione Proprio sull'aspetto nutrizionale Devono essere evidenziati alcuni passaggi da focalizzare Allora la nutrizione diventa fondamentale in tutti gli ambiti nella nostra vita Non solo nella ginnastica e nello sport Perché dietro ciò che noi mangiamo Ci sono sempre dei nutrienti Cioè delle piccole molecole Che noi quando siamo seduti a tavola O quando mangiamo qualcosa Non pensiamo che in realtà In quell'alimento rappresenta per noi una medicina o un veleno E tutti questi piccoli nutrienti Oggi sappiamo che possono andare addirittura a interagire con il nostro DNA Modificando o modulando l'espressione dei nostri geni Quindi tanto più per chi ha problematiche sportive muscolari Andare a ricercare alcuni deficit o alcune caratterizzazioni genetiche Ci può aiutare abbinando un'alimentazione mirata e adeguata A migliorare o a risolvere il problema La cosa più eclatante è la possibilità che attraverso questo tipo di alimentazione Che si chiama nutrigenetica Abbiamo di andare a ridurre i picchi di infiammazione cronica Cronica a livello generale Quindi l'infiammazione cronica è alla base di tutte le patologie croniche E di molti dei disturbi muscoloscheletrici Insomma tanti gli spunti di riflessione Offerti dal convegno organizzato dallo studio Anna di Pistoia Che prosegue la propria crescita E più che altro la propria gamma di servizi offerti La finalità è quella di divulgare il più possibile le tecniche ID Perché io sono anche insegnante di educazione fisica E bene o male sono più tanti anni che insegno Ho affrontato varie discipline Però sono ritornata indietro dal mio professore Professor Marco Pecchioli Perché vedevo che le persone avevano sempre più bisogno veramente di guarire Cioè la ginnastica come norma igienica Come qualcosa che ti salvaguardi alla salute e che te la mantiene E allora essendo curiosa e scientifica Ho detto vado all'Istituto Duchenne E ho avuto modo di testare che queste tecniche ID Veramente fanno grandi risultati Su tutti i tipi di problemi Quindi dai bambini nella formativa Nei bambini nella ginnastica correttiva Negli anziani per la ginnastica di mantenimento E soprattutto per tutte le problematiche Che ci sono ora inerenti al mal di schiena All'artrosi dell'anca, della spalla Quindi non sempre si pensa anche a persone di una certa età Ma persone anche come noi giovani O che perlomeno sono stati anche sportivi, agonisti E che ora riportano tutte le ferite Di questo Di questo usura a volte del troppo lavoro Come ci sono persone che invece non hanno mai fatto niente E che con la vita di tutti i giorni Poi cominciano a somatizzare Nelle varie posture sbagliate che hanno mantenuto E per questo hanno bisogno di fare una ginnastica ammirata Che li dia veramente Infatti la cosa che spesso i miei allievi più grandi mi dicono Mi hai tolto 15 anni di vita Cioè nel senso No in male In bene Cioè mi ha fatto regredire di 15 anni Perché ritrovano quella mobilità Quei schemi motori Quegli esercizi che magari facevano quando erano più giovani E allora ricominciamo da capo La ginnastica è sport? Adesso possiamo togliere il punto interrogativo E affermare che non c'è sport Senza una corretta applicazione della ginnastica C'era una volta il calcio dei campanili C'era una volta il calcio di lettanti Che veramente coinvolgeva i paesi E uno dei grandi protagonisti a Prato Del calcio di lettanti È stato il Tavola Con Don Bangini Che riusciva veramente a coinvolgere i ragazzi Di tutta l'età Di letta è il momento quindi Di andare a ripercorrere le gesta di Don Mangini Ma il calcio di lettanti è davvero cambiato? No, non è cambiato il calcio di lettanti È sempre lo stesso E adesso vi presenteremo un personaggio molto importante Molto importante Che il calcio di lettanti L'ha cambiato Ma per davvero Vediamo È stata una grande festa Per ricordare la figura di Don Alberto Maggini Oltre 150 persone Si sono date appuntamento Al campo sportivo Martelli di Tavola Per la consegna da parte del CONI Di una targa alla memoria Del prete che amava il calcio Che ha segnato indelebilmente L'adolescenza di tanti ragazzi Fuori e dentro il campo Tracciando un'epoca Questo è uno dei pochi premi Che il CONI concede alla memoria Alberto Maggini Sicuramente è stato un grande personaggio Che travalica un po' i confini Anche di Tavola o di Capezzana Quindi io penso che stasera Inizieremo un percorso Per far sì che la memoria di Alberto Venga ricordata Nel corso dei prossimi anni Erano oltre 10 anni Che non si consegnava Una targa alla memoria Il CONI ha fatto una scelta E ha voluto premiare Un uomo di sport Un uomo di fede ovviamente Ma soprattutto Una grande presenza In una comunità Cioè una persona Di un carisma pazzesco Un prete in campo Nel vero senso della parola Appassionato di calcio Ma soprattutto sacerdote illuminato Come ha tenuto a precisare La scrittrice Maria Ciambellotti Nel libro che ha raccontato La vita del presule In campo Volendomi riferire un pochino Anche al discorso Di campo sportivo Anche se io non sono Assolutamente Specialista in questo Però Maggiormente Al campo della vita Che abbraccia Tutti i campi Dell'esistenza Il ricordo di Don Mangini Da chi ritenerà materialmente Questo che è un premio Particolarmente importante Su fratello Ha lasciato veramente un segno Stasera Questa è la dimostrazione Sì, io sono molto contento Di tutta questa affluenza Della memoria Di mio fratello E che dire di più Si vede Che ha lasciato Una traccia Profonda E tutti hanno venuto bene Tanti abbracci Tanti occhi lucidi Nel ricordare I tempi che furono Nel narrare Un calcio nostalgico Fatto di campanile Nel vero senso Della parola Paolo Mangini Questo è il calcio Dilettanti Aggregazione E voglia di stare insieme Questo è il messaggio Che ci ha lasciato Don Alberto Mangini Certamente Stasera nella riprova Con tanti amici Tante persone Sono qui stasera Per ricordare Una persona speciale Io Lo dicevo prima Uno degli amici Qui Ricordo Don Mangini Con molto affetto Perché Ho fatto Il mio primo Convegno Da presidente Del settore Giovanile Scolastico Proprio Organizzato Da Don Mangini A Capezzana A Capezzana Ed era un convegno Partecipatissimo Dove lui Dimostrò Veramente La sua grande dote Di essere Un grande Amante Del calcio Ma soprattutto Un amante Del calcio Giovanile Sicuramente È una serata Meravigliosa Non l'aspettavamo Neanche noi Avevamo fatto Tante cose Per organizzarla Però devo dire Che si è riuscita Sta riuscendo Molto bene Una grande partecipazione Di persone Anche veramente Importanti Cosa vi ha lasciato? Ci ha lasciato Dei buoni ricordi Ci ha lasciato Una storia Che lui L'ha fatta L'ha seminata E noi Stiamo ancora Raccogliendo Quello che lui Ha fatto Per me Alberto Maggini È stato Quello che Mi ha avvicinato Mi ha fatto Iniziare A fare L'allenatore Dovevo venire A giocare Nel Prato Mi feci male Ormai Avevo fatto La domanda Per insegnare A Prato A insegnare Da Gomari Lo conobbi E mi portò Qui a tavola E iniziai A fare L'allenatore Con lui Che quando Seppe Che io Ero un ex Giocatore Di calcio Io mi resi Disponibile Per allenare La squadra E lui Mi disse Ben felice Che era Mi disse Te allena pure La squadra Però ricordati Che la formazione La faccio io È stata L'ennesima vittoria Del tavola Di Don Maggini Misteri del calcio E non solo Donne E motori Non vi finisco Il ritornello Però la nostra Diventa Vitorzoli Ci ha raccontato Un raduno Di autostoriche Davvero interessanti Insomma Ti sei appassionata Anche di auto Io non mi sono appassionata Però ho scoperto Che ci vuole Veramente tanta passione Per curare Una macchina d'epoca E allora Vediamo Il raduno Delle macchine storiche A Prato Promo Delle macchine Inizia la bella stagione Ed iniziano Anche le passeggiate Lo sanno bene I piloti del club Auto e moto storiche Di Prato Che per inaugurare La stagione Domenica scorsa Si sono ritrovati Nella cornice Di piazza del Duomo Per il saluto Alla città Come dice una canzone Ci vuole passione Per la macchina E per il motore Nel 2000 Nel 2000 è nata L'associazione Un gruppo di appassionati Delle macchine D'epoca Ci siamo messi insieme E in un mese Poco più Abbiamo raccolto Cento soci Adesso invece Quanti numeri siamo? Ora siamo Circa 280 soci Che tipo di macchine avete? E' un po' di tutte Generiche Abbiamo Dalla Fiat La Lancia Qualche Ferrari Qualche Porsche Abbiamo Io ho una macchina Di 1925 Che è una Ceyrano E' nata Un anno prima Della Fiat Poi la Fiat Ha copiato Ha preso una Ceyrano E ha fatto la Fiat Questo e basta Però è una storia lunghissima Come nasce La passione Per le macchine D'epoca? Uno ha passione A motori Alle macchine Alle ruote E questo è tutto Che poi Noi abbiamo anche Le moto Oltre le macchine Abbiamo anche Tante moto Oggi C'è il primo ritrovo Com'è il programma Per la stagione? Allora Tutti gli anni Noi Dai 2000 A 2001 Circa Facciamo L'apertura Del club Per la stagione Agonistica E veniamo In piazza di Duomo Tutti gli anni A Prato Si chiama Il saluto Alla città di Prato Lei che macchina? C'è una Una vino Ferrari Ed è 70 Tutto Ho un MGA De 56 Spide Per l'inglese No? E ho la Prince Poi Basta C'è anche la bicicletta Come nasce La passione Per le macchine D'epoca Nasce Perché bisogna Fin da Dalla nascita Per dire Oltre A piacere La macchina D'epoca Bisogna A uno che piace C'è anche il rumore Del tubo di scappamento Diciamo Parliamo di manutenzione Come si custodisce Una macchina D'epoca La macchina D'epoca Bisogna Sirene Prima di tutto È coperto Perché non sono macchine A tenere fuori Come le macchine Da un po' di tempo Da tanto tempo In qua Ci sono Dove Se tu verifici Tutte Cromature C'è tutte Le cose in fuori Se i fracassi Andassi Poi non hanno Le rifese Come fanno Da tanto tempo In qua Le macchine Perciò Bisogna tenerle dentro Di tanto In tanto Bisognerebbe Portarle a fare Una giratina Loro Compreso noi Oggi c'è stato Il saluto Del club Automoto Storiche Prato Alla città di Prato Appunto Che ruolo ha il comune In questa manifestazione? Beh Noi patrociniamo L'iniziativa La inseriamo All'interno Del nostro Calendario estivo Prato Love Sport È un'iniziativa Ormai storica Che si ripropone Tutti gli anni Che dà l'opportunità A tutti Gli appassionati Di macchine Di moto Di venire E rendere omaggio Alla città Quello che Secondo me È importante È valorizzare Il ruolo Della macchina E per quello Che ha rappresentato Nella tradizione Che poi è un po' La tradizione Del nostro paese E anche Della nostra città Quindi Ci fa veramente piacere Tutte le volte Ospitarli In centro Nella piazza Più importante Di Prato Capitola Piazza Grazie a tutti. 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 Ospite di onore della serata è stato Andrea Tafi, unico ciclista italiano in grado di vincere sia la Parigi Roubaix che il Giro delle Fiandre. Andrea Tafi, un grandissimo ciclista qui al CF, davanti a dei ragazzi che praticano calcio, cosa c'è di parallelo tra il ciclismo e il calcio che si può raccontare a dei giovani talenti? Innanzitutto voglio ringraziare il CF e l'associazione di questi giovani calciatori che mi hanno dato questa opportunità di essere qui insieme a mezzo a tanti ragazzini che si cimentano in questo bellissimo sport. È una cosa un'unione tra sport. È una cosa un'unione tra sport veramente bellissimi che in Italia e penso al mondo sono quelli più seguiti e quindi mi fa veramente enorme piacere. Un'esperienza incredibile la sua, vincita nella Parigi Roubaix, anche campione italiano. Cosa può dare di consigli a questi ragazzi? I consigli, io parlo oramai, sono un ex, oramai dal 76 che ho iniziato come loro a fare le prime colpe di pedale, quindi sono cambiate tantissime la generazione, quindi su tutto di prendere lo sport nella maniera giusta, nella maniera del divertimento, specialmente a questa età qui perché è giusto che sia così. Poi man mano che il tempo passa, allora uno si può accorgere veramente, si ha la stoffa per poter andare avanti, per continuare questo suo percorso. Tra i suoi successi è anche il Giro della Lombardia e del Lazio, oltre alla convocazione nazionale. Magari è venuto a reclutare qualche giovane leva stasera? Ma chissà mai, diciamo che è bello fargli sapere e trasmettergli quello che un altro sportivo, che fa un altro tipo di sport, fa e come si comporta. Quindi magari mi aspetta qualche bella domanda da parte di questi ragazzini e dopo magari chissà. Lo spumante è già in fresco, penso che sia in frigorifero ma stanno cominciando a guardarlo i ragazzi della Sibbe perché, perché, no diciamo, no lo diciamo dai, perché sicuramente è importante anche mantenere un pochino così di suspense, però adesso la promozione è veramente a un passo per la Sibbe. Diciamo che intanto domenica scorsa la Sibbe ha vinto un'altra volta. Non siamo scaramantici, questo spumante è in fresco, siamo il punto del nostro Niccolò Landi e ci fermiamo qua, se no alla Sibbe ci guardano male, però è una Sibbe vincente. Adesso è tempo di chiudere i conti. La Sibbe commerciale archivia presto la pratica terra nuova e si prepara nel migliore dei modi alle tre partite in casa che chiuderanno la stagione del campionato di Serie C Silver. I ragazzi di Pinelli, infatti, già domenica contro Libertas Livorno, potrebbero laurearsi campioni e accedere direttamente al prossimo campionato di Serie C Gold con due giornate di anticipo. Merito di una prestazione maiuscola della Nieri a terra nuova, che già all'intervallo avevano quel vantaggio di sicurezza tale da poter dosare l'energia nel secondo tempo. 85-71 il risultato finale, con 18 punti della coppia danesi Fontani, 17 di Pinna, 15 di Tahiti e 13 di Smecca. Ancora è Box Milo Staino che proverà a recuperare per la prossima sfida, in tempo per provare ad essere ancora protagonista nel match decisivo. Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, fissato per le ore 18 al pala Toscanini, chiamato ad essere un vero fattore per spingere i Dragons a questo successo. Il ritornello è sempre lo stesso, avete carta e penna? Se non l'avete procuratevela perché tra qualche momento andremo a proporvi tutto quello che è il programma degli avvenimenti sportivi presenti in città nel prossimo weekend e non solo. Sta arrivando la primavera e gli appuntamenti si moltiplicano. Sì, perché abbiamo anche qualche appuntamento al di fuori del weekend, quindi mi raccomando seguite attentamente l'agenda. Avete carta e penna? Segnate tutto. Sabato 30 marzo, palestra di Settimello, campionato di pallavolo femminile Serie C, Calenzano Volley, Ariete, PvP. Sabato 30 e domenica 31, alla palestra di Vaiano, il campionato Champions 3 Regione, Soft Dart. Domenica 31 marzo, campo Cercione di Iolo, il campionato di Rugby Serie A, Puneo Rugby Prato, Amatori Alguero. Domenica 31 marzo, alla palestra Toscanini, il campionato di basket, Sibbe Prato, Libertas Livorno. Mercoledì 3 aprile, Boccinodromo di Galilei, in Viale Galilei, la gara di bocce, la bocciata. E siamo arrivati al termine anche di questa entusiasmante puntata di Prato Sport. Ci siamo divertiti, più che altro abbiamo scoperto le eccellenze sportive della nostra città. Diletta, vogliamo invitare i nostri amici ad Ascolta la Vision a segnare l'appuntamento per la prossima settimana? Insomma, praticamente lo sapete, l'appuntamento è il venerdì sera alle 21.20 su TV Prato, mi raccomando, perché noi abbiamo già una scaletta veramente impegnativa. Mamma mia, siamo già pronti per la prossima, ci vediamo venerdì prossima. Buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!